Oggi abbiamo parlato di operation and maintenance, degli impianti di produzione a fonte rinnovabile. L'abbiamo fatto secondo due scenari, uno scenario attuale e uno scenario futuro. Nello scenario attuale l'importanza, il focus si sta spostando sull'ottimizzazione delle performance dell'impianto, quindi è importantissimo avere a disposizione strumenti che permettano di controllare se è possibile migliorare le performance dell'impianto. Lo scenario futuro è quello che noi abbiamo chiamato uno smart plant che ha al suo interno anche la possibilità di accumulo di energia in modo tale di poter massimizzare l'emissione in rete dell'energia pulita da fonte rinnovabile. In questa situazione i servizi devono essere ancora più a valore aggiunte perché l'impianto da elemento critico per la rete diventa un elemento a valore aggiunto per il dispacciamento.